E' arrivata la polizia e mi ha riconfermato lo sgombero per dopodomani. Ecco, inaspettatamente. Sì, mi avevano avvisato già qualche mese fa, io ho mandato una mail al comune di Palermo chiedendo aiuto al sindaco Lagalla, l'avevo fatto anche precedentemente all'ex sindaco Orlando, ma proprio ho chiesto aiuto da mamma per le mie figlie perché non sono nella posizione e neanche ho la possibilità di poter andare a prendere una casa perché sinceramente già sto provando un pochino di vergogna, ma non perché ho fatto qualcosa di male, per una mia dignità, ma avendo chiesto aiuto più volte sia all'ex sindaco che all'attuale sindaco Lagalla non ho avuto nessuna risposta. Ecco, vogliamo ricordare lei da quanti anni è dentro questo immobile? Quasi sette. In questi sette anni ha cercato sicuramente delle soluzioni, anche se è proposta di pagare un eventuale affitto. Sì, sì, noi abbiamo mandato delle pecca, abbiamo chiesto di poter pagare una cifra equa, quella che è comunque nelle mie possibilità, anche un bollettino mensile, abbiamo chiesto più volte di poter contribuire nel condominio, anche perché io la luce la pago regolarmente, ho un contratto più volte, più volte, più volte, ma questa possibilità mi è sempre stata negata. La casa è dello Stato e purtroppo io la devo lasciare. Purtroppo non riceviamo nessun segnale di attenzione, di comprensione dei problemi dei cittadini da parte del primo cittadino della città di Palermo. C'è tutale assenza, insensibilità ai problemi diversi che si pongono giornalmente. Noi stiamo tentando da tempo una interlocuzione con il sindaco che purtroppo non dà segnali di disponibilità e tantomeno ci sono segnali di presenza sulle problematiche. In questo caso, da segretario del Sunia, lei cosa proporrebbe per arrivare a un compromesso? Noi abbiamo chiesto anche dei tavoli di confronto agli enti statali che coinvolgono il Comune, Prefettura, i sindacati per discutere come affrontare questo problema. Sicuramente molti passi possono essere fatti, manca all'amministrazione dare dei segnali concreti di comprensione delle difficoltà che vivono i cittadini quotidianamente. Qual è la vostra posizione qualora si dovesse verificare questo eventuale sgombero? Noi già abbiamo dato segnali di contestazione totale. Abbiamo chiesto da sempre predisporre un tavolo e un piano di intervento su queste problematiche.